Io ho avuto l'occasione di suggerire una cosa del genere ed è stata un'operazione che tutti ricordano un grosso piacere perché è molto difficile, ma è difficile da vivere, figuriamo il vostro piacere. Quindi è stato un orgoglio di essere riusciti a fare questa operazione che è di teatro polpucolare, perché il grande teatro polpucolare è un grande teatro polpucolare un teatro d'altore, perché qui non serve di novità, anzi niente, c'è una fissa. Il teatro passato ci viene facendo la direzione dei lettori sulle idee. Difficoltà ce ne sono sempre perché facendo appunto un teatro un po' più, ma di nuovo conio anche con me come struttura, è venuta fuori con un fungo, non è tagliato. non ha ancora una sorta di norme, insieme di norme che lo regolamenti, quindi mancano sempre a Bocce si trova, si trovano sempre a Bocce. Lasciamo il maestro adesso, lasciamo il maestro. Lasciamolo qui. iniziato a scoprire, come abbiamo gestito le scopini e capisco. Perciò è questo che la fa andare avanti e la curiosità. Quindi non si mette a tempo. Beh si, è vero. Senza curiosità non si letta, noi sono preparato... Stimulare bene. Andiamo qua. Grazie.